Il Liceo Marconi è pronto a traslocare. L'Istituto Pescarese, con un finanziamento ministeriale da circa 8 milioni, sarà abbattuto per carenze strutturali, per poi essere ricostruito da una ditta piemontese. Già i prossimi esami di Stato si sarebbero dovuti svolgere nel Liceo Maior, ma ora si è cambiato programma. La maturità si svolgerà in sede, ma rimangono tutte le inconnite per settembre. Quello degli spazi negli istituti scolastici pescaresi è un problema mannoso e ora il Liceo Marconi non sa dove andare. Ci sono 1.400 studenti e 200 professori che ad oggi fanno l'ultimo giorno di scuola e non sanno dove andranno a settembre. Nulla di nulla, se non una comunicazione che è stata fatta il 21 di aprile, in cui si chiedeva sostanzialmente di continuare con la DAD. Quindi dopo un anno di scuola fatta in DAD si chiedeva ancora di continuare con la DAD. Adesso gli alunni faranno gli esami del quinto qui, è una notizia questa che viene da ieri, ma non sapranno a settembre dove riandranno. Verranno accorpati, faranno una sorta di spezzatino con i tre licei. Nulla di nulla è stato comunicato. Nel corso di questi anni si è dormito per quanto riguarda la riorganizzazione degli spazi. Intanto personale e studenti del Liceo hanno organizzato un presidio per questo sabato davanti alla provincia. Non sappiamo dove saranno le aule e gli uffici per il prossimo anno, né quale ditta si dovrà occupare del trasloco, fanno sapere dall'istituto. La comunità scolastica pretende un cronoprogramma e si dice contraria alla demolizione se prima non verranno individuate soluzioni ad hoc.